si affrontano le formazioni quest'oggi di Massafra e Virtus Francavilla ricordiamo il Massafra terz'ultimo in classifica mentre la Virtus Francavilla è pagliata a quota 27 insieme allo Stuni e al San Vito partita iniziata da 45 secondi di gioco e quanto riguarda invece la formazione della Virtus Francavilla con il numero 1 Di Ponzio, numero 2 Margagliotti numero 3 Paglia Lunga, numero 4 Biason l'argentino Ezequiel Biason, numero 5 Pizzolla numero 6 Lopetuso, numero 7 Litti numero 8 Gennari, numero 9 Miceli numero 10 Quarta e numero 11 Morleo a disposizione di mister Giampaolo Renna ricordiamo che Pizzonia è squalificato quest'oggi quindi non potrà stare in panchina ancora per due turni andiamo a vedere intanto la panchina appunto della Virtus Francavilla che schiera dodicesimo Taurisano, tredicesimo Pisano, quattordicesimo Scazzi quindicesimo Mascia, sedicesimo Petracchi, diciassettesimo Fino, diciottesimo Galeandro la Virtus Francavilla nel cerchio di centrocampo con Pizzolla pallone per Biason, largo c'è Cristian Quarta se ne vede, arriva poi Morleo, in area di rigore, pallone messo dentro poi Litti, tutto solo, Pizzolla, tiro, rete rete della Virtus Francavilla il vantaggio della Virtus Francavilla al quinto minuto e 35 secondi con Pizzolla da parte di Biason a cercare Quarta uno contro uno contro Salvi ancora Quarta, in area di rigore Cristian Quarta, Cristian Quarta prova la conclusione debole, ancora Quarta prova ad accentrarsi poi Gennari le finte, ancora Gennari prova ad andare, pallone dall'altra parte posizione regolare, Miceli in area Miceli, pallonetto, rete Miceli Eugenio Miceli stende il fischio di Lopriore parte Gennari con il destro pallone deviato che arriva poi a la profondità per Miceli autorete poi c'è l'autorete pallone messo in mezzo da Morleo e poi Miceli con il destro trafigge Basile pallone che è stato deviato De Bartolomeo poi sbaglia De Bartolomeo Gennari prova la conclusione attenzione gli scivola la sfera poi il gol gli scivola la sfera Basile incredibilmente schetto dunque si prepara Di Polito Di Polito contro Di Punzio parte Di Polito con il destro rete il lancio da parte di Piason con l'esterno a cercare Cristian Quarta prova ad entrare neri di rigore Cristian Quarta ancora le finte Cristian Quarta parata e poi c'è il gol e poi c'è il gol parata da parte di Basile e poi proprio sulla linea Di Petto Di Petto ancora Miceli parte Basile con il destro pallone che arriva però a Biason che anticipa Galeandro pallone per Biason posizione regolare Biason tutto solo contro Basile Biason parata è il gol il gol di Miceli il gol di Eugenio Miceli 6 a 1 45esimo minuto Miceli ancora lui 4 gol per Miceli incredibile pallone per Biason Pizzola aveva servito Biason tutto solo Biason ha calciato con il destro la parata di Basile è arrivato da solo indisturbato Miceli e ha messo in rete al 45esimo minuto del secondo tempo 6 a 1 per la Virtus Franca Villa che ancora una volta fa un punteggio tennistico dopo quello di Domenica inflitto al Maglie ricordiamo per 7 reti a 1 raccontare articola Lui intensivo ecc 41 Giovia e oisi mar pizzola am